Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Lascia andare lo stress. Non farti carico dello stress di un'altra persona. Fai un bel respiro e lascialo andare. Il tuo corpo è in tensione perché le persone che ti circondano sono troppo nervose. Il te ti ha fatto pensare di essere tu quello stressato, quando in realtà sono loro a esserlo. Lo stress ha avuto effetti negativi su di te, come farti sentire arrabbiato o triste. Forse soffri anche di insonnia. È venuto il momento di risolvere questa situazione. Lo stress può peggiorare le cose, perciò è importante lasciarlo andare. Inspira profondamente, prendendo una grossa boccata d'aria e pensa a ciò che ti fa sentire stressato. Buttalo fuori soffiando via l'aria e gli angeli e gli unicorni lo porteranno in cielo, dove tutto viene sistemato. Stira le braccia e le gambe, in modo che anche il tuo corpo lascia andare lo stress. Ora pensa a qualcosa che ti rende felice. Puoi parlare con un amico, con il tuo animale domestico o con i tuoi angeli e gli unicorni. Non devi sentirti stressato, arrabbiato o triste. Tu hai il potere di scegliere i tuoi pensieri e le tue emozioni. Gli unicorni sperano che sceglierai di sentirti felice proprio adesso. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.